E' un polacco di 35 anni, l'autore di alcune truffe agli anziani. A smascherarlo i carabinieri della compagnia di Zogno che lo hanno intercettato ad almeno San Salvatore dove vive e gli hanno trovato in casa una serie di preziosi orologi a oro dal peso di 800 grammi per un valore di 35.000 euro. L'uomo telefonava alle sue vittime fincendosi un loro parente approfittando della loro difficoltà dovuta all'età avanzata, a qualche problema di salute, le raggirava convincendole a consegnargli denaro e oro che passava a ritirare. Bloccato dai carabinieri deve ora rispondere di truffa aggravata per aver agito nei confronti di persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli. Al malvivente sono contestati due colpi messi a segno urnano a San Pellegrino Terme ma le vittime potrebbero essere molte di più. Nei due casi alle due anziane sono già stati restituiti i propri beni. I militari dell'arma evitano a farsi avanti per visionare la refurtiva qualora si fosse rimasti vittima di episodi analoghi in passato. In tal caso è possibile contattare la compagnia di Zogno dell'arma. La denuncia del presunto truffatore rappresenta per i carabinieri l'apice di un'attività di prevenzione e sensibilizzazione avviata già da qualche tempo sull'intero territorio provinciale e svolta all'interno dei centri di aggregazione per anziani ma anche all'esterno delle chiese prima delle messe.